Quindi, un pennellino, ripeto, colorante per aerografo, in questo caso ciano, e andiamo a colorare. Ecco, magari non ve lo faccio proprio tutto tutto, cosa dite? Giusto per non annoiarvi completamente. Ok, così, ok, aspettate che mettiamo un po' di alcol, vedete come se aggiungo l'alcol, ovviamente tendo a diluire il colore, e quindi riesco a ottenere un effetto proprio vetrata. Chiaramente, un altro motivo per il quale sto usando in questo momento dei colori a base alcol, è il fatto che l'alcol mi evapora subito, e quindi, diciamo, impedisce alla... Ecco, appunto, qua ho esagerato con la pennellata, era quello che vi dicevo prima, la ghiaccia non è ancora asciutta, ok? Però, dicevo, il fatto che asciughi subito impedisce al colore della ghiaccia di perdere, ok? E quindi, fortunatamente, la ghiaccia non rilascia il suo nero, perché il colore che sto usando non la bagna per un quantitativo sufficiente di tempo. Non so se mi sono spiegato, ho usato un italiano un po' ambiguo, in effetti, me ne rendo conto, ma sono sicura che voi siete molto intelligenti, avete capito perfettamente quello che intendo dire, ok? Adesso, leviamo il ciano, e andiamo a prendere il verde, ok? Ovviamente, le foglie, attenzione, perché qua vi muovete nel piccolo, quindi dovete avere un po' di accortezza in più. Adesso, giallo, con il giallo andiamo a colorare il dentro di questi fiori, ok? Poi, ci prendiamo un bel magenta, ok? E col magenta andiamo a fare, forse ne abbiamo aggiunto un po' troppo, va bene, uguale. Ok. Andiamo a disegnare i fiori interni. Ripeto, non vogliamo né che la colorazione sia particolarmente uniforme, ok? Né che sia particolarmente coprente. Anzi, lo vogliamo proprio un effetto un po' più disomogeneo, ok? Se voi andate a vedere queste vetrate, non sono precise, cioè non sono perfette, ok? Possiamo andare a scurire aumentando il pigmento sul pennello, quindi... Facciamo così, 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 così. Andiamo a scaricarci il più possibile il pennello, poi intingiamo nell'alcol e andiamo a uniformare un po' di più. Così. Ok, così. E così. Ok, e ancora un attimo. Perfetto. Vedete? Andando, nuovamente, andiamo a scurire. Guardate che carina che sta diventando. Mi piace da matti questo effetto, giuro. Ci prendiamo l'arancione, abbiamo potuto usare anche il rosso, ma il rosso è molto coprente, quindi ho preferito andare con dei colori abbastanza, cioè non troppo accesi. Ok? Così. E basta. Finito. Non è carinissimo? Ecco, nulla vi vietava di... Nulla vi vieta, ovviamente, di fare il bordino nero anche intorno, ok? Per creare proprio l'effetto della vetrata. Però già in questo modo noi abbiamo ottenuto veramente in pochissimo, in pochissimo, una decorazione, una decorazione d'impatto, d'effetto e molto, molto, molto semplice. Ok? Adesso vi giro. Che cosa abbiamo fatto oggi? Giusto per far vedere a chi si fosse connesso soltanto adesso. Vi ho fatto vedere come realizzare un effetto vetrata, in maniera veramente semplicissima, utilizzando... Ciao Vittoria! Un bacione! Ho le mani tutte sporche. Utilizzando ghiaccia reale nera, un beccuccio sac à poche misura 1 e colori liquidi a base alcol, nello specifico ovviamente i nostri colori per aerografo. Potete trovare la ghiaccia reale, la tempera nera che ho utilizzato per colorare la ghiaccia e i colori aerografo sul nostro sito www.bimagenta.it. Vi ricordo che le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori ai 39 euro. Detto questo, vi ricordo il nostro canale YouTube Bimagenta, iscrivetevi, non perdetevi neanche un tutorial, condividete i video se vi piacciono e pollicione in su. Io sono a vostra disposizione per qualunque richiesta, evenienza, informazioni sui nostri corsi online, sui workshop, tutto quello di cui potete aver bisogno, noi ci siamo. Direi che ci vediamo domani, sempre qua, mi auguro alle 2, anche se so di avere sicuramente dei corsi domani pomeriggio, non lo so, vi aggiorno domani mattina. Vi auguro buona serata! Baci baci, grazie a tutti! Ciao!